che mette nella condizione di poter operare al di sotto per demolire, questo è stimato nell'utile di 50-60 mila euro, un'operazione assolutamente semplice che si fa in 20 giorni di lavoro. Operazione di disgaggio, anche perché questo non è un costone pericolante o in frana, è un'altra roba, questo è un costone che presenta dei rischi perché vi è una coltre superficiale che si disgrega per effetto della vegetazione spontanea, che nasce ma che non presenta problemi di cedimenti, scivolamenti eccetera, perché per l'altro le fratture sono subverticali, sono dall'esterno verso l'interno, quindi non abbiamo mai assistito che la verità ha disegnato. Grazie.